Dopo sto mese di Morigno, io l'unica persona che comunque avrei preso, dato che comunque era libero sulla piazza, era il signor Del Neri. Però io ho provato una volta, ho provato tu a chiamarlo e non mi ha risposto. Prova tu e vedi che ci dice. Io credo che sicuramente i bologativi delle grandi squadre, diciamo, di capire quando sono, quando è giusto il momento di fare, cambiare idea. Sono molto là, che viene nel calcio. Io credo che sicuramente, per sempre a mio amore, sei arrivata. Sei arrivata? Io credo che è arrivato il mio momento quando erato alla Roma, sono passati diversi anni, credo che ci erano fatti più fai, nel 2005. E credo che sicuramente è stato un'altra difficoltà, ho fatto 38 punti su 45, però poi se Rafferl muro conti, non è colpa dei giocatori, però sicuramente gli anni sono come lì. Credo che sicuramente se hai sospetto di valsa, se fai polemica, se ho pocranico. Credo che la mia avventura a Roma c'è già stata e Paganini non ripete. Sempre molto chiaro il mister Del Neri. Grazie mister, valuteremo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie ancora. Grazie, un saluto.